salve a tutti amici artisti e benvenuti in questa nuova unboxing review di questa figura di dragon ball è la figura di questione di dragon ball super della linea bandai e per esattezza la figura è la dragon ball super legend battle figure super saiyan san goku guardiamo la scatola nei particolari guardiamo qui di lato ci sono altre figure che rappresentano la figure l'espressione di mare del viso poi dietro possiamo vedere che si cambiano le teste che sono tre anche le braccia e le possibili formazioni ma in realtà sono le teste sono tre da quest'altro lato ancora vediamo un'altra delle figure di dragon ball che poi vedremo all'interno ringrazio fernando per avermi dato la figure ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con la review eccoci qui e partiamo con la review allora adesso vi mostrerò i pezzi che contiene questa scatola che tiene la figura all'interno partiamo dalle braccia e una come si può vedere molto dettagliata nei minimi articolari e uno passiamo l'altra sono due sono in pratica nella stessa posizione e questo è il primo passaggio la prima posizione che assume poi passiamo alle due teste è uno questa qui anche qui si può vedere che è fatta nei minimi particolari addirittura c'è la goccia di sudore così la tensione si può notare anche i muscoli del collo bellissimi particolari e uno poi mostriamo l'altra sono due idem l'espressione di rabbia eccoci qui allora adesso vediamo la figura per l'intero eccola qua questa è la seconda fase di trasformazione anche qua si può vedere ogni minimo particolare la cintura le piccole sul pantalone gli strappi gli stivali questo qui che c'è dietro a questo piede e l'appoggio che gli permette di mantenersi così che la figura se viene posta in qualche parte insomma predestinata la non cade si ne abbiano in piedi possiamo notare qua a parte le viene sulla fronte e poi non ha le pupille il massimo della rabbia dell'espressione ok la serie che produce questa figure è la master lies e moving e la figure è alta 28 cm espirata ad una scena non di dragon ball z ma di dragon ball super ed è tratta dalla battaglia contro freezer che però è stata praticamente ridisegnata perché in dragon ball super viene raccontata da trunks in uno speciale di dragon ball super in pratica la stessa scena presente in dragon ball z ma ridisegnata la figure mostra le fasi di trasformazione di goku in super saian la prima volta dopo l'uccisione di krillin da parte difficile allora vediamo le tre fasi di trasformazione la prima è questa qua e si può guardare si può vedere l'espressione del viso e le gocce di sudore sia sulla fronte e qua sulla guancia la fase di incazzatura nel momento in cui si arrabbia e sta per trasformarsi e si possono vedere tutti i particolari anche l'espressione del viso come accigliato come arrabbiato e della prima poi la seconda è questa qui eccola qua idem espressione la bucca spalancata arrabbiato e mancano le pupille perché esprime il massimo dell'incazzatura e sono due questo è il secondo passaggio e poi abbiamo il terzo la fase finale eccola qua anche qui ancora teso però è terminata la trasformazione allora ripercorriamo per intero le tre fasi di trasformazione della figure allora il primo passaggio è questo qui i capelli neri così con queste braccia qua e 1 e 2 e questo questa è la prima trasformazione poi abbiamo la seconda cambiamo le braccia ci mettiamo queste qui 1 2 esce la seconda testa eccola qua ed è questa qua perfetto seconda fase eppure bellissima terza fase torniamo a queste braccia qua che abbiamo utilizzato prima 1 2 e poi c'è questa qua che come ho detto già nella fase finale eccola qua perfetto allora penso che possiamo ritenerlo un ottimo lavoro quello che hanno fatto per questa figure perché come ho già detto altre volte è ricco di dettagli negli strappi del pantalone il ginocchio che uscite qui dallo strappo gli stivali come è curato i minimi dettagli si può guardare in ogni angolo poi anche le singole teste come già abbiamo visto sono mini di particolari davvero ben fatta e poi voglio dire a differenza delle altre alcune insomma molto grande 28 centimetri e poi per quanto riguarda il prezzo costa intorno ai 50 euro questo è quanto spero che il video vi sia piaciuto lasciate like commentate e condividetelo grazie al prossimo video ragazzi ora vi mostrerò tre minuti dell'unboxing che posterò nel canale a raggiungimento di 100 like di questo video grazie a tutti 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 Grazie a tutti.